ciao a tutti ragazzi io sono Tasi e benvenuti in questo ultimo episodio di Castle Crusher siamo arrivati all'ultimo livello e qui con me c'è sempre Umi ciao a tutti ragazzi questa volta sto registrando con Fraps e perchè siamo veloci sai non so sono velocissimi Uli io sono velocissimi assurdo oh siamo arrivati finalmente al boss finale hai boss finale sono quattro ti ho detto sarà un po' lungo l'ultimo livello non problem ragazzi vedi se dividerlo in due parti al massimo dividiamo una parte faccio io e una parte da Umi si si vediamo hai messo un timer Uli no metti tu adesso aspetta dio come cazzo faccio a farlo Uli non posso metterlo adesso metti in pausa si può mettere in pausa no no vai mettilo nel frattempo allora mettiamo la password del telefono mannaggia me che l'ho messa però c'erano due cose contemporaneamente attento attento qualcosa enorme ecco come non da vai te le paro io ok l'ho messo Uli di 20 minuti sono già morto perchè devo mettere il timer quindi cosa buona è giusta ah 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 no 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 no信 sono forte ridotti più forte è un po' fanno male sì ma ne abbiamo trovati molto più forti eh soprattutto quelli altri livelli ragazzi ma i livelli assurdi sai che non mi ricordo più come si gioca ho stato una posta non ci siamo ma tanto tu sei il master master kill io sono il master tank andiamo tu 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 ci avete dato il via per eh metà la metà la strada quindi prossimamente dobbiamo solo cercare di scaricarci esatto ricordiamo il ragazzo non sbaglio è grave cioè si può scaricare perché si 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 è finita la licenza ho un cabinato no ma se non sbaglio è finita la licenza sai ah si ma scusa ma non si non si compra metal slug o si non lo trovi più quindi intera si boh non è non si può più comprare quindi l'unico modo è scaricare noi vorremmo comprare ragazzi esatto però non si può cioè no io lo comprerei sicuramente anch'io perché un gioco fantastico sarebbero sarebbero uno degli unici giochi che io comprerei guarda ti giuro come ho detto nel live di ieri ci ho passato davvero un ottio su quel gioco guardate che ho ucciso un tizio con una bistecca va bene va bene ho decapitato anzi cioè io andiamo allora adesso ti spiego adesso sei già morendo lo so ma boh ma allora vedi eh dobbiamo andare prima nel primo portale poi si sbloccheranno gli altri quattro che brutta cosa adesso questo fa malissimo eh non devi assolutamente toccare i suoi disegni Uli ma non mi piacciono nemmeno sai vedi attenzione non toccare i disegni Uli devo scappare eh non li puoi neanche distruggere se non sbaglio no 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 non puoi no me lo puoi più chiare eh picchi lui picchi lui ci spari eh ah si? no no ti toglie una cosa come più di 100 se ti colpisce merda mi ha colpito non me ne sono accorto appena inizia a venire fuori il disegno scappo eh non ti ha colpito eh tranquillo tanto ci sono mortale meglio anzi che scender quasi quasi uomini io me lo posso reggere sai i disegni ogni volta che viene aia eh te no invece a te fa male molto male eh vatti dopo torniamo possiamo riprenderci le poze eh possiamo fare l'altro cosa oppure no eh no no Uli bisogna farlo tutto in un colpo eh sarà impossibile allora morca vacca no no sarà possibilissimo semplicemente non so se facciamo il primo colpo per quello ti ho detto ci voglio tempo Uli per l'ultimo livello parati dietro vai lol che cavolo hai un po' la cosa muore sai che deve colpire forse qualcuno mi sa che devi dargli legnate vabbè eh no ma non capitolo vabbè ecco io no ma tranquillo tanto io sono mortale vabbè ecco io tranquillo tranquillo vai a posto ok becate lì così scendono no adesso è mortale attento a te vai via K mannaggia te ok vai ok non da me tipo ci vogliono tipo sei disegni per killarmi comunque basta arrivare a meno di metà vita eh Uli e poi non serve neanche più fare sto mestiere perché rimane a terra ah ok è arrivato ho livellato bene bene vita aia guarda mi ha tolto tutta sta vita Uli avevo appena livellato ho tre poste una ne ho usata per sbaglio per quello ce ne ho usato tre ah ecco ecco merda però è pieno di disegni eh quindi attenzione ma cosa non abbiamo mai incontrato sai eh lo so è nuovo questo è l'unico nuovo tra quelli che merda problema ah è killa te Umi vai ah io sto naso gigante ah prova se li colpisci scompaiono sai eh questi si questi si gli altri no oh sono livellato ok e vieni qua vai muori oh però è quasi morto è visto col naso come brutto il naso chioccio perché di buon cazzo è una cazzata delle attrezzi come testa? non so strano aia mannaggia a me perchè lo fa ok è ucciso è morto guarda adesso che figo da cazzo tu da cazzo tu ah merda io avuto in testa tipo 글 cazzo tu quattro mi ho quanti soldini vai vai Ho preso proprio un cazzo Non ho preso Dai andiamo Ah di lì? Ok mi arrivo Guarda sto ferme come messaggio subliminale Lol Andiamo avanti va Oh Devo distruggere Ok devi distruggere Sì è difficile Cioè è dura distruggere sto figlio È tipo un cuore Una cosa del genere Sì sì Però ti consiglio di fare come sto facendo io Sennò lì stai un'era Uli Salta e picchialo Aspetta aspetta Sì ma non ne riesco Non sei capace No no non sei capace Non sei sconchillare eh Si vede Ecco bravo Oh lol Ok Ecco Distrutto Ho bloccato il secondo Andiamo Questo com'è? Questo è il No Il prossimo è il più difficile Questo no Vedi guarda chi c'è Ah che? Questo? Il tizio che era morto se un porzono Sì esatto Il golem di Guardalo Ti dico solo di fare attenzione Guarda Adesso vi faccio vedere Non voglio sfoglierare Attenzione Tranquilla Appena fa la sua mossa Ah ma Non c'è un cavolo Uccidere Eh no fidati Dopo Zero edificio Ah va Dai 46 Ecco Attento non colpirlo E Devi scappare Non gli fa niente Uli Però ti toglie tantissimo Devi solo scappare Ma cos'è il tizio che Tipo il suo salvato Oh Uli scappa Eh sì 87 Uli Visto? Ah dai Se l'è portato In vita Se l'è portato Cioè è morte Ah tanto mi becco Sempre le colpi Vai 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 Tranquillo Vai Uli Un critico l'hai fatto Uli Gli stai Due critici Tanto io sono mortale Quindi Dai Mi sono beccato io Tranquillo Ah 5 mi leva Con quelle cose Guarda Leva Uli Ne toliti Io consiglio di fare una cosa qua Ecco Non mi alzo più Ah è vero Sì Sono furbo Ottima idea Ah ah Tanto vuoi Guarda Quello è veloce Stronzo Eh lo so Stronzo Stai attento Torna indietro Torna da papà va Vai Devi morire Devi morire Devi morire Mannaggia te Mannaggia te Le tue palle di fuoco Dagli occhi Ok Fatti beccare da lui Vai Umi Ok io riesco a reggere Se mi piglia un colpo Lo so fai Eh Cristo Vai Oh Ciao picco amico Attenzione Ho beccato a lui Oh Epic fail Oh Hai tornato Umi torna Dai Dai Questo è l'ultimo giro Non è vero Sto morendo Lol Vai via Umi Ma lui non ne va niente Sai E' qualcosa E' mortalmente Vai 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 ti devo uccidere Stronzo Vai via Umi Mannaggia E ho solo due pozioni Tranquillo Lo rego io Fatti beccare Ma fidati che dopo Ne dovremmo usare Tantissime di pozioni Questa è cosa brutta Pava Lo rego io Tanto adesso lo chigliamo Tranquillo Dai ma su Umi Dove lo rego io Tranquillo Ok è morto Merda Mi ha colpito Quando mi fa Adora buttere Le cose Giusto Guarda di cosa Gesù Ah finalmente è morto Non ti dà del cibo Eh no Peccato Perché hai scritto Di un po' delle spade Poi alla fine non ci sono le spade Boh Ok Jacopo Prendi l'ultimo No Torniamo Non c'è nulla No�� Tranquillo Va bene Un attimo su Skype Chi c'ha Secondate che mi hanno scritto. Ok, no, tranquillo. Tranquillo. Andiamo. Bene. E ora dobbiamo distruggere il coso, giusto? Sì, esattamente. E adesso sei pronto a usare tutte le tue pozioni. C'è una prova a tre, signor. Vai. Kill. Oh, io non riesco, sai, a trattare una... Distruggi, distruggi, dai, ce lo facciamo. Vai. A posto. Alla prossima, ragazzi. Chi è questo? Ah, il tizio strano. Guarda per terra, vedi cosa c'è per terra? Tanti. Qual è la sua specialità? Le suscitare i cadaveri. Eh. Se parevo. Eh. Eh, sono quei forti, stronzi. Eh, posso fare spawn kill, tanto. E qual è la sua altra specialità, Uli? No. La specialità sua, altra. Ti ricordi quando abbiamo combattuto contro gli scheletri? Che cosa gli aveva fatto? Ah, gli avevano diventati giganti. Eh. Eh. Cos'è non si alzano più? Eh, ragazzi. È dura, è dura. È dura questa, è dura. E se noti, sono anche tutti più potenziati. Sono tutti più veloci, più agili, più forti. Umi, la... Vabbè. La me la prendo io. Oh, merda. Vabbè, qua non cercare di... Sì, di darmi mail o cose simili perché c'è un bordello assurdo. Prendi quello, prendi Umi. Prendi tu. Ne hai più bisogno. Ok. Prendi tu, prendi tu quello. Tu ne hai più bisogno perché tu... Io posso raggiungerlo qua. Ecco, ma iniziano quelli grandi. Guarda, ti ricordo che non è che le cose così per diventare gigante. No, niente sandwich for me. E ti ho detto, unico, sono difficilissimo. Ma come lo chiamato, sono un'inizio. Ah, potrò mochichillarlo. Ah, poi c'è la vacca. È impossibile. No. È invece un possibilissimo, solo che... Poi dovremmo rifare tutto, se non rialzare. No, no. No, no. Non è vero di far tutto. Torniamo qua. Se non sbaglio, torniamo qua. Sì, no, sono così sicuro. Mi sembra anche giusto. Eeeh, critica. Mannag... Guarda, mi sto spunchillando, ule, assurdo. Aia. Mannaggia loro. Stronzo. Oh, è dicapitato uno, ok. Mi sa che questa è sull'ultima ondata, eh. No. L'ultima? Non mi ricordo, ma non penso sia l'ultima. Mi sto accennando in stanco un'altra. Però questa... Duro, eh, sto livello. Questi neri sono anche... Però lui non è che sia difficile. Lui è una merda, perché è l'ultima. No, toglie tantissimo, se non sbaglio. Il bello è che dopo ti dà anche la sua spada. Dì la sua spada, che figa che è. Ah, mi piace. Ui, dobbiamo chiedere il suo tizio qua, che... Eh, quello verde. Guarda le frecce, te, va. È il peggioro incubo nostro. Eh, aspetta, c'è questo e mi rompe il panno. Ah, chiedi là, quello prima. Mi lo porto in giro, tizio. Ah, ia. Stronzo. Ok, non è capitato. Vai. Perché... Ah, perché non c'è niente. Ma adesso tu muori. Eh, è da solo... Difficile, eh, batterci. Posso dire un amichetto mio che ti fa cadere ogni due per tre? Esatto. Vai, sei dall'ultimo. Ah, sì. Sei tanto resistente. Eh, però... Sponchilla, sponchilla. Cioè, non dico che... Oh, guarda. Sì, sì, sì. No, no, non si può sponchillare, lui, eh. E' questa la... Attento, Umi. Bruttale. Vedi, se cerchi di sponchillarlo, io ti fa solo male. Cioè, perché il suo casco tipo... Ecco, quello, maledetto. Quando ti lancia lo scheletro... Eh, fa male? Sì, fa molto male. Oh, tanto lo buttiamo per terra ogni tanto. Praticamente devi riuscire a dare sempre gli stessi colpi. E lui non riesce a muoversi. Capito? Nei vicendi sempre... Ah, poi lo scheletro è morto, tipo, senza che sponassi. Sì, ecco. Però è tanto resistente, se vedi. Vai, vai, vai. È una fatta di vita l'abbiamo levato. Anzi, diciamo come prima. Io... Io le eserco le frecce. Vai, vai. Aia! Aia, guarda. Non ti riesco a reggerlo, cioè. Lui non è tanto come il me. Aia. No, non cade con le frecce. Allora, però, poi chi la lo da lontano, se non hai vita, per esempio. No, no, bobo, tranquillo. In caso... No, il boss muoio di sicuro, eh, Uli. Eh, hai poche vite, hai poche frecce. Cioè, hai poche... Poca roba. Ma che vuoi il boss? È quello piccolino. Quello con la bacchetta. Sai che pensavo fosse lui il boss? Tu non hai idea di quanto fosse chi? Lo stronzo piccolino. Lui è una merdina a confronto del vero boss. Guarda quello sembra una merda, quello piccolino. Sì, sì, sembra. Eh, però la principessa vuole vedere che cosa succede, eh. Ok, quello è. E' una cosa picchia. Ah, se... Ah, ma dice... Ma te, se toglielo, lui. Dovrai... Dovrai stoppare il video, Uli. Perché c'è tipo... Dieci minuti di... Di... Di titoli di coda che non si possono salutare. Eh beh, mi saluteremo. Prima di uccidere... Prima di uccidere l'amichetta la saluteremo e poi li stopperemo. Attentomi. No, lo scherzo mi è seccato. Aia, merda. Sì, c'è. Cerchè di portarlo lontano. Ah, amico. Torna. Del tuo amichetto che è un cita. Ora non posso citer anch'io se per questo. Eh, non posso... Guarda che trollone. Ciao, amico. Mi sa che lo chilo io, sai, Umi? Quasi, quasi. No, perché poi io muoio per sempre. Ah, no. Non mi ha perso di animi, Uli. Aspetta, arrivo. Dove sei? Qua sono troppi cadaveri. Non ti vedo, Uli. Sono lì, della giraffa, Uli. Eh, Umi, ce la faccio. Aspetta. Ecco. Vai. Molla, malla, 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 malla. Ho beccato quasi, porca vacca. Non serve che... Quando sei di fretta, non premere in mezzo al cuore. Fogli animi mi hanno male. Non so solo che mi riagni. Aspetta, aspetta, ora. Andiamo che lo butta giù, tranquillo. Ecco. Vai. Eh, troppo veloce, porca vacca. Quando c'è il buff, è rosso. Eh, Umi, non riesco, mi so. Eh, è vero, mortale, ma... Guarda, è molto resistente. Aspetta, vieni qua. Sì, poi... Eh, non è stato un attimo, aspetta. Ok, vai, Umi. Vai. Perfetto. Ma tu, ancora tu, sparare frecce. Vabbè, stronzo. E ancora, muori. Umi. No, lo sai lontano. Dimmi un lì. Se sei. Dammi il cibo, questo, dai. Non penso di essere... È il primo dava cibo, quello inutile. Beh, potevi anche non perdere la vita. Non è un po'. Marva. Se questo gioco se è senza un tanker, è impossibile da fare. Eh, lo so. Ciao, un gioco. Vai, vai, lo sto cosucidendo, Oli. Vai, è un ucciso strontso. Finale. Andiamo che da. È volato. Non mi ricordo se... È volato la spada, spara un. Ah, la spada, aspetta, a posto. Prendi qua. Andiamo cosa da. Vedi cosa da, cambiala? Porca va che da tutto in più. Eh, senti di difesa. Eh, è Umi. Sieni questa, tu ridammela mia. A posto. A tua da un po' di... Eh, porca va che è bellissimo, questo. La mia da... Oh, dai, dopo la, dopo la riprende. Anzi, se moriamo, tipo, possiamo riprenderlo. Prendiamo entrambi. Ah, ma, 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 ma. Ma non mi piace, quello. Ultimo cristallozzolo. Ok, ragazzi. Comunque, non siamo ancora a 20 minuti, eh, Uli. Quindi, anche se sono 20 minuti, forse riusciamo a fare un ultimo episodio intero. Ti dico quanto manca io nel mentre che picchio. Ah, 55 secondi, Uli. Ah, sì, sì. Cosa vuoi? Che il boss lo carico io? Ok. Allora, se vuoi fare la registrazione... Ah, boh, tanto è palloso, lì. No, che poi inizia il boss. Ok, ragazzi, alla prossima puntata e ci vediamo con Umi, anzi, sul canale di Umi per il boss. Esatto. E ci troviamo con il boss. A dopo, ragazzi. Sul canale di Mikasai. A dopo, ciao.